La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa. Partiamo con il mattino, la prima pagina è in apertura, Conte 3 si tratta sul patto. Il Quirinale vigila dimissioni del Premier ma congelate per siglare un nuovo governo. Renzi mantiene il punto ma è già Toto Ministri, Orlando Vice trema la pattuglia grillina. L'intervista a Spadafora, ricoveri molto migliorato, discutiamo con Matteo. Di lato il fenomeno, quei ragazzi autolesionisti con la sindrome di Joker. Andiamo sul centro pagina con lo sport, Bacaio Gol, campionato e il Napoli passa Udine all'ultimo secondo. Sempre sul centro pagina, stretta sulla Movida, dalle 18 stop a sporto, De Luca, vaccini finiti. Quindi il nuovo DPCM, niente viaggi tra zone gialle. Il governatore chiede più dosi e più personale. Il farmacologo Garattini, poche fiale così l'immunità sarà difficile entro l'estate. Di taglio basso andiamo all'estero, l'esercito digitale delle bugie alla corte di Donald Trump. Questa era la prima pagina. Andiamo a vedere in primo piano qui sul mattino la verifica di governo. Verso il Conte Ter, la crisi si sblocca, sponda del Colle, la roadmap, le dimissioni del Premier, congelate da Mattarella. Poi la squadra, Renzi tiene il punto, ma l'intesa è più vicina, la mediazione di Franceschini. Eppur qualcosa si muove tra mille prudenze. La trattativa tra i partiti viaggia sotto l'occhio vigile del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cui unico scopo è evitare che il Paese si trovi alle prese con una crisi di governo al buio, nel pieno riesplodere della pandemia. Il primo passaggio sarà l'accordo sul Next Generation New, il cui via libera dovrebbe avvenire domani o più probabilmente mercoledì, in apposito consiglio dei ministri. Rimaniamo su questa pagina. Boschi, rientro quasi certo. Ipotesi, Orlando, Vice Premier, trema la squadra grillina. Il patto di legislatura è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo, una girandola di nomi, riscrive l'esecutivo sul numero di ministri da sostituire. Il braccio di ferro è di fatto iniziato settimane fa, ovvero quando Giuseppe Conte difendeva i ministri migliori del mondo, tentando di contenere i cambi con un rimpasto. Avviata la pratica del Conte Ter, con tanto di dimissioni del Presidente del Consiglio, tutti decadono, non c'è bisogno di andare a caccia di dimissioni, visto che in Italia il Premier non può cambiare i ministri, come invece accade altrove. Lasciamo questa pagina, rimaniamo sul mattino con l'emergenza. Emergenza fino ad aprile. C'è la stretta anti-movida. Bar niente a sporto dalle 18. L'esecutivo al lavoro sul nuovo DPCM alta gli spostamenti, anche tra aree gialle. L'ipotesi zona rossa con 250 positivi ogni 100.000 abitanti, fa infuriare i governatori. La movida finisce nel mirino del governo dopo le ultime notizie su assembramenti e feste illegali in piazze e strade privilegiate per le serate dei ragazzi. L'esecutivo sta pensando di ridurre ulteriormente le occasioni di socialità, impedendo ovunque ai bar di fare attività da sporto dopo le 18. Questa è una delle ipotesi al lavoro, che saranno discusse stamattina tra governo e presidenti delle regioni e poi saranno inserite in un nuovo DPCM da varare in settimana con l'obiettivo di fare entrare in vigore le nuove regole da lunedì 18 gennaio. L'altra novità contenuta nel DPCM sarà la proroga del divieto di spostamenti fra le regioni anche gialle. Dovrebbe slittare anche l'apertura degli impianti da sci. Lo stato d'emergenza dovrebbe essere prorogato fino ad aprile e non più fino a giugno. E andiamo a vedere ora la situazione in Campania. Dosi già esaurite, De Luca chiama il governo, altri vaccini e più personale. Primi in Italia, la polemica del governatore di distribuzione sperequata serve un riequilibrio, la replica del commissario Arcuri, subito l'invio della nuova tranche. I campani sono i più vaccinati d'Italia, ma come spesso accade quando c'è un intervento pubblico del governatore Vincenzo De Luca, alla buona notizia è seguita in allegato la polemica istituzionale. Esaurite le dosi consegnate alla nostra regione. Colpa di una distribuzione sperequata l'accusa del Presidente dell'Aggiunta nei confronti del governo. Neanche il tempo di essere soddisfatti dalla massiccia partecipazione, anche se sotto la pioggia per tanti, alla campagna vaccinale che occorre guardare già al dopo, in pochi giorni all'arrivo si è raggiunto con il 90%, la percentuale più alta nella somministrazione dei vaccini, dosi ritenute infatti ancora insufficienti per coprire dal Covid le migliaia di operatori sanitari. Campani di taglio basso, disponibilità di fiale troppo limitata, così l'immunità è difficile entro l'estate, lo dice Garattini. L'Italia, nonostante già apprezzabili sforzi per accelerare il ritmo di vaccinazioni giornaliere, come altre nazioni europee, prima del raggiungimento dell'immunità di comunità diffusa e cosiddetta digregge, deve continuare a puntare per mesi sulla prevenzione passiva, come distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani, ma deve farlo con misure chiare e ordinate. Quello dei colori a giorni alterni non è certo un buon sistema, lo dice Silvio Garattini. scienziato, farmacologo italiano, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Con questo lasciamo il mattino e ci spostiamo sulla prima pagina della città. L'apertura. Brindisi in casa, il Covid presenta il conto, il veglione di San Silvestro in un'abitazione privata, provoca un nuovo focolaio a Capaccio, sono già 19 le persone infette. Abibbonati, cluster, il cluster dei ragazzi dopo una donazione di sangue, bacini esauriti in Campania, De Luca contro il governo. Andiamo sul centro pagina, Salerno, adottiamo una pianta, il sogno dei chiapparielli. E sempre sul centro pagina, cava dei tirreni, stangata sulle coppiette, K.O. la strada dell'amore. Di lato lo sport, il retroscena, granata, gravina, caffè, poi la rottura. Sempre di lato, a Salerno, sequestra un diciottenne e chiede il riscatto ai genitori, preso. Ha scafati, incendio al tabacchi, la procura punta sul clan del Pizzo. Castellabate, moglie malmenata, marito e suocero indagati per lesioni. Eboli sfuggì al pestaggio, pusher arrestato dai carabinieri. Di taglio basso, la storia, la camorra, io scelsi la box, il campione sarnese, Samuele Esposito, il pugilato mi salvò. Lasciamo la città e andiamo su cronache. In apertura, a Salerno, la denuncia del figlio Nicola Ietto, accusa febbre alta, il 118 arriva senza medico, è una sorta di raggiro. La donna fu operata al colon, i soccorsi arrivano dopo oltre un'ora da Ponte Cagnano, una visita inutile, non hanno saputo dirci cosa fare e nemmeno hanno fatto un tampone. Questa è la denuncia. Andiamo sul centro pagina. Raffaele Battista, ordine e salernitana, iniziò con la trasferta all'Olimpico, bastò una stretta di mano con i tifosi. Oggi in pensione, racconta la sua passione per i Granata. Poi l'intervista, Rocco Palladino e il suo rapporto con la tifoseria. Di lato, Salerno, Peduto rilancia la candidatura di Santoro a sindaco e invoca unità nel centro-destra. A Ponte Cagnano, in crisi, l'amministrazione Lanzara, l'opposizione Citro e Silvestri. Di taglio basso, Pianeta Basket, Givoda Scafati, ancora un KO vince il derby, la Virtus Arechi. E poi l'iniziativa nasce il Comitato di Sindaci e Consiglieri per i Fondi Europei. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Diamo la linea alla regia. Rieccoci tornati in studio. Riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura la pandemia, sprint vaccini, fiale, esaurite, somministrati. 11.500 siede ai sanitari, asle e ruggi ora si fermano in attesa di altre dosi. Lunghe code, disagi negli ospedali, nuovi contagi a quota 194, i picchi a Salerno e battipaglia. La denuncia cava anziana con una frattura, 13 ore di attesa per il ricovero. Di lato l'economia, gli invisibili della Movida. Diamo loro i nostri spazi, questa è la proposta. Bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo capito che tutto può succedere. Bisogna essere preparati mentalmente e non mollare mai. Poi vediamo meglio qual è la proposta. Spostiamoci ora su centropagina con la serie B. Salernitana caccia all'esterno, ecco le alternative. La Salernitana cerco Mancino, Paiac, Liottio, buongiorno. Sempre sul centropagina la scuola, rientro in classe con lo spettro delle defezioni. Infanzia e primaria si rischiano 6.000 assenze. Senza il fronte, no dad, scolleghiamoci da pc e tablet. Di lato la cronaca, sequestra un diciottenne per estorcere i soldi e cellulare, preso dopo sette mesi. Criminalità, picca il fuoco alla tabaccheria Scafati, torna l'incubo, racket. Questa era la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a vedere in primo piano la crisi e l'appello invisibili della Movida, la crociata di Porcaro. Ridiamo gli speranza. DJ, tecnici, musicisti fermi da un anno, vendono gli strumenti per tirare avanti. Se l'imprenditore li faccia lavorare chi ha locali grandi e spazi all'aperto, attraverso i social, l'imprenditore ha voluto lanciare un appello ai colleghi affinché con l'arrivo della bella stagione chi gestisce spazi ampi e all'aperto possa dare un'occasione di lavoro a quelli che definisce gli invisibili. Il mare Modo, il suo locale, si estende su una superficie di 6.000 metri quadri. Dice c'è dunque la possibilità di organizzare con le nuove precauzioni che l'emergenza sanitaria imporrà ancora per qualche tempo spettacoli dal vivo, DJ set, aperitivi, insomma occasioni di socializzazione di cui la gente ha veramente voglia che possano tramutarsi in opportunità di lavoro, seppure temporanee, per centinaia di giovani che ormai hanno perso le speranze. Lui ha promesso che lo farà, per questo esorta quanti siano nelle sue stesse condizioni a regalare prospettive in un momento così difficile. Rimaniamo su questa pagina, crollano ancora due alberi, paura e proteste a Torrione, i fusti precipitati a via Sorrentino e nella piazzetta con le giostrine, per fortuna nessun ferito. Andiamo avanti sempre sul mattino con la cronaca, sequestrò giovane in cella dopo sette mesi. A giugno l'uomo caricò il ragazzo a bordo di un SUV per rilasciarlo pretese un cellulare e 1.400 euro. La vittima fu anche percossa con una mazza da baseball, la vicenda a Salerno, ancora da chiarire altre indagini in corso. Sempre a Salerno, arrestato ladro d'auto in trasferta da Scampia. Centropagina picca il fuoco e scappa, scafati tabacchi nel mirino di Taglio Basso, Castellabate, separazione difficile, ferita dal suocero mentre va dai figli. Ad Eboli droga fuori orario, multe anche ai clienti. Puscher, arrestato a Eboli, il malvivente, 37 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica mentre cedeva dosi di crack e acici a due ragazzi tra le strade del rione Paterno. Lasciamo il mattino e spostiamoci su cronache. In primo piano la politica lega al lavoro, peduto rilancia Santoro, è necessaria l'unità del centro-destra. Il coordinatore cittadino prova a fare il punto della situazione, per noi dice prioritario il valore dell'alleanza. Amatruda, chi si lancia in corsa solitaria, ferma, fa il gioco del sistema. E Santoro punta il dito contro Napoli, risurrezione solo sotto elezioni. Di Taglio Basso, Italia Viva, la coordinatrice Angelica Saggese incontra i big per le elezioni provinciali e comunali, quasi certa la riconferma del consigliere provinciale Ernesto Sica nei grandi comuni, al voto, si presenterà la lista. E andiamo a Ponte Cagnano. Silvestri e Citro passano all'opposizione, la maggioranza. E sempre più in bilico, dopo le dimissioni dei consiglieri comunali, la replica del sindaco Lanzara dice, sono sereno, i cittadini hanno deciso con il voto, lavoriamo per il bene della città. E in una nota, sindaco al capolinea, ne prende atto e si dimetta, lo dichiara il presidente della commissione Trasparenza Mangino, poi le accuse, ennesima testimonianza del famoso metodo Lanzara, questa città merita di più il consigliere di movimento libero, Angelo Mazza si scaglia contro il primo cittadino, accuse anche da fratelli d'Italia. Andiamo a vedere un'altra iniziativa, sempre qui su Cronache. Sfruttare i fondi europei nasce il Comitato di Sindaci e Consiglieri. Promotore il primo cittadino di Bellissimi, in Movolpe nei prossimi giorni, Assemblea regionale per raccogliere nuove adesioni. Hanno già aderito i sindaci di Cava dei Tirreni, Nocere Inferiore, Monte Corvino Pugliano e Battipaglia. Per grandi linee si tenta di riproporre lo spirito della concertazione di fine anni 90 con patti territoriali, gli accordi di programma, i contratti d'area. Di Taglio Basso, Eboli, spaccio di Cracche Asci, arrestato 30 settenne e a Pertosa, il Comune punta sulla mobilità sostenibile, progetto per l'acquisto di biciclette a pedalata. Il costo dei lavori è di circa 19 mila euro. E termina qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata. Grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata.